The Guardian dedica un articolo online nella sezione lifestyle travel e attrattive di Perugia passando in rassegna diversi aspetti e dal cibo alla vita notturna. Citata anche Perugia in App, l'applicazione presentata lo scorso luglio, frutto di un progetto voluto dall'assessorato al turismo del comune di Perugia guidato da Gabriele Giottoli. Perugia in App, applicazione gratuita per dispositivi iOS Android ad alta capacità di interazione con l'utente, si compone di sette itinerari di visita nell'acropoli. Rocca Paolina, Perugia Centro, Rione Portasole, Rione Porta Santa Susanna, Rione Sant'Angelo, Rione Porta e Burnea, Rione San Pietro con oltre 14 km di percorsi a piedi e 160 punti di interesse urbani. Si aggiunge una sezione dedicata agli itinerari extraurbani con quattro percorsi fuori le mura per toccare le zone più caratteristiche fino al lago Trasimeno. I percorsi guidati da percorrere in auto, ma in alcuni casi anche in bici, sono itinerario Trasimeno, itinerario Settevalli, itinerario Silvestre, itinerario Tevere. Perugia in App, sottolinea l'assessore al turismo, è soprattutto uno strumento dinamico. La piattaforma infatti è destinata a veder crescere i suoi contenuti attraverso l'inserimento di nuovi percorsi che si allargheranno ai territori circostanti. Saranno dedicati ai prodotti tipici del territorio, in vista del Natale, includeranno anche gli itinerari lungo i quali visitare presepi in città.